Heritage nasce in un momento in cui l'azienda ha assunto la volontà di ripartire verso le nuove tecnologie mettendo a punto e riordinando la propria storia. In questa piazza ci troviamo con le Archistar. Cosa sono le Archistar? Non certo i designer in voga o gli architetti celebri, ma vetture celebri per la loro architettura. E quindi dalla Topolino il Think Different italiano che Dante Giocosa fece come approccio differente al tema dell'utilitaria con una vettura tutta nuova anche se accettabile per le masse perché sembrava molto una vettura a torpedo nel periodo ma in realtà era totalmente stravolta, impositivo con liberazione dell'abitacolo, il motore appeso davanti, la sospensione trasversale. La Topolino è un brevetto a tutto tondo su quattro ruote. La Topolino è un brevetto a tutto tondo su quattro ruote.